La transizione dalla pena al lavoro, ovvero il lavoro visto come strumento di inclusione per le persone in esecuzione di pena. Di questo argomento, fondamentale sia per i risvolti giuridici sia per l'intreccio indissolubile fra società e detenuti, si è parlato stamattina in un seminario alla Fondazione Focus, l'ex istituto Monte Calvario ai quartieri spagnoli. Organizzato dai Ministeri del Lavoro e della Giustizia, al convegno sono intervenuti Italia Lavoro, il garante per i detenuti della Regione Campania ed i direttori di centri di detenzione come Secondigliano, Nisida e Benevento. La capacità nostra è di fornire dall'interno delle istituzioni e fuori dalle istituzioni alternative, far capire che il verbo essere è il più importante del verbo avere, che la persona conta molto di più del denaro. Quindi io credo che il compito nostro è di stimolare quel sentimento della passione che alla fine è in tutti, anche in chi ha sbagliato, nei gubi della sofferenza noi dobbiamo andare per cercare di indicare delle strade che siano diverse rispetto a quelle del degrado e della devianza.